Nome? Laura. Cognome? Assandri. Età? Diciannove. Dove abiti? Murialdo. Segno zodiacale? Leone. Professione? Studentessa universitaria. Che corso di laurea frequenti? Scienze della comunicazione. Pratiche sport? Sì. Quale? Tennis. Squadra del cuore? Juventus. Pensi che vincerà il campionato? Ma si spera. Hobby? Scrivere e leggere. Film preferito? Martyrs, La maschera di cera e Nightmare. Cattante preferito? Alanis Morisette, Che ti perri e Laura Posini. Libro preferito? 616 Inferno, prova a prendermi di Stephen King. Cambieresti qualcosa caratteralmente? Sì, vorrei essere meno timida e impulsiva. Un tuo difetto? Sono troppo orgogliosa. Che lavoro vorresti fare da grande? A giornalista. Hai animali in casa? Sì, ho tre gatti, un cane, una coccorita, una tartaruga d'acqua, un coniglio nano. Colore preferito? Blu. Saluta a tutti? Ciao. Grazie. Grazie.